Aggiornamento sulla dieta chetogenica a 5 settimane da quando l'ho iniziata 5 weeks in Sono dimagrito, sono dimagrito decisamente ho perso In 5 settimane ho perso probabilmente 3 chili Allora andiamo sull'applicazione della bilancia In 5 settimane Quindi mettiamo la settimana Adesso siamo una settimana tra il 18 e il 24 febbraio E sto a 91 e 7 Se andiamo 5 settimane, 4 settimane, vabbè anche 5 In realtà sarebbero 5 chili Perché la settimana fra il 7 e il 13 gennaio Quindi appena finite le feste stavo a 96 e 2 Però onestamente quei 2 chili l'ho perso in un attimo Cioè in una settimana ho perso 2 chili Diciamo erano tutti stravizi delle feste Però se considerassi effettivamente 5 settimane da quello Dal 7 al 13 Praticamente oggi è 24 In 6 settimane sarebbero 5 chili Però io voglio conteggiare dalla settimana dopo Dove mi ero messo già a regime Quindi 14 14-21 14-20 gennaio Anche 21-27 Comunque 94 94,1 E questa settimana la media è 91,7 Ma il peso di oggi è anche inferiore Però manteniamoci Vabbè il peso di oggi è 91 chili Però manteniamoci comunque sulla media Quindi ho perso 3 chili in 5 settimane Quindi bene, bene perché? Perché a differenza di tutte le altre diete La rispetto La rispetto La rispetto Ok? Non sgarro come nelle altre diete E ci sto associando anche il digiuno intermittente Ok? Perché ho smesso anche di prendermi gli aminoacidi La mattina quando Quando mi alleno Per rispetto a questo digiuno Caffè senza Assolutamente invece metto il latte di mandorla Senza zucchero 100 ml Sono 17 calorie Però evito di fare anche quello E quindi le due cose Dieta chetogenica O comunque low carb Come la vuoi chiamare E E E E digiuno intermittente Ovviamente vanno Vanno a braccetto Perché una volta che inizia Dopo 12-13 ore Non sono un dietista Non sono Non sono un dietologo Ok? Parlo semplicemente della mia esperienza Quindi non mi viene da rompercazzo Ok? Io parlo di me stesso La mia esperienza sul mio corpo Ok? Quindi Dicevamo Quando dopo 12-14 ore Diciamo Il corpo entra in Chetosi Questo ovviamente Quando 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 mangi Una dieta Diciamo Diciamo Che comprende Carboidrati Quando Invece Ovviamente Te nutri Fai una dieta Chetogenica E quindi Te nutri Soltanto Di Grassi E proteine Ovviamente Non passano 12 ore Che entri In chetosi Anzi Probabilmente Non ne esci Proprio Se eviti Completamente I carboidrati Quindi Dicevamo A parte Diciamo Queste ore Necessarie Prima di Prima che il corpo Entri in Chetosi Quindi Ci associ Un digiuno Intermittente Quindi salto La colazione Praticamente Inizio a pranzo Anche se Addirittura Questa settimana Ho iniziato a fare Un pasto Tre volte Diciamo Lunedì Mercoledì E venerdì Ho fatto un pasto Al giorno Quindi ho solo cenato Adesso ci arriviamo Effettivamente È normale Effettivamente Scendi di peso E non soffro Così tanto Ok Non soffro così tanto La fame Anzi Devo dire la verità Non la soffro E A cinque settimane Ma onestamente Anche già dalla seconda E io sono una persona Che c'ha C'ha il debole Per lo zucchero Ma non so l'unico Per i dolci Ovviamente Penso È una cosa Abbastanza comune Però io Che Abituato Che me lo sempre Mangia il dessert A fine pasto Sempre lì Comunque Sai Pane Pasta Cerco Pane Pasta Cerco Colazione Col cornetto E cose del genere Quindi C'avevo dei craving No Delle voglie Abbastanza forti Sono quasi Praticamente Scomparse Praticamente Mi mangio Dopo cena Un quadratino Quindi 10 grammi Di cioccolata Dark chocolate Di cioccolata Negra Al 99% Ovviamente Non è dolce Amarissima Comunque Mi aiuta Però ecco Questo è l'unico sfizio Che mi tolgo E quindi È la dieta Migliore Per l'allenamento Ecco perché Questo è un punto Che dobbiamo Che ovviamente Volevo menzionare La forza S'abbasta Tantissimo Anzi Anzi Sto alla quinta settimana Devo dire Che la settimana scorsa Ci sono stati giorni Lo giuro Ecco tutto Che mi sveglio Cioè Mi alleno La mattina Appena sveglio Quindi dovrei Stare pieno D'energia Inizio l'allenamento Ci sono stati In paio di giorni Che è stata Una sensazione Abbastanza brutta An incubo Perché poi mi sento Non ce la faccio Non c'ho la forza Non ce l'ho Non ce l'ho Però Però penso che Comunque Dalle informazioni Che ho raccolto Sembra che il corpo Comunque ovviamente Si debba adattare Solitamente Dico che ci vogliono Dalle 3 alle 6 settimane Io sto nella quinta settimana Perché il corpo Si deve adattare A bruciare Solo esclusivamente Grassi Invece del glucosio Degli zuccheri Che vengono dai carboidrati Quindi Il calo della forza È notevole Adesso Al di là del fatto Che in alcuni giorni Proprio non ce la faccio Però Anche giorni In cui mi sento bene Un calo Di un 15 20 Un 15% Rispetto a Ai carichi Che facevo prima C'è È notevole Non c'è dubbio Però è ancora presto Diciamo Per tirare le somme In queste Diciamo Per quello che ho Che ho Che ho Esperimentato Che ho capito Fino adesso Se mi facessi la domanda Ovviamente È la dieta ideale Per una fase De massa Per mettere volume Mette massa magra In questo momento Ti direi di no Però Insomma È pieno di bodybuilder Che fanno la dieta carnivora E chiedo Quindi Assolutissimamente Io so Insomma Sono un novello Sotto questo Punto di vista Però Per adesso Dopo queste Diciamo Dopo queste 5 settimane Dico La forza cala tanto Però Il mio obiettivo Adesso È perdere peso È arrivare Agli 80 kg Questo è l'obiettivo Che mi sono dato Sono 91 8 mesi fa Ad aprile No 10 mesi fa Ero a 104 Quindi ho perso Già 13 14 kg Ero 104 106 Non mi ricordo Però 104 Sicuro Ad aprile A pasqua Dell'anno scorso Passati 10 mesi Siamo a febbraio Quindi Tutto sommato Ok Ho perso In 10 mesi Almeno 14 kg C'è 13 kg Va bene Però Adesso Ovviamente La dieta Cotogenica L'ho introdotta Sono l'ultimo mese E sembra Funzionare abbastanza bene Ripeto Nell'obiettivo adesso Di voler perdere peso Mi sembra ottimale Perché io Nel mio caso Il lato buono È che la rispetto Ok Non mangio Fuori dai pasti Non ho questa tentazione Per il dolce Non c'è tutto questo Buco nello stomaco Che mi sento male Devo mangiare qualcosa No È molto saziante E sto A 1900 calorie al giorno E peso 91 kg Quindi sono poche Non so tante 1900 calorie Ma alleno tutti i giorni Quindi Non Voglio dire La fame si sente Con una dieta normale Con questa Mangiando Ovviamente Prevalentemente Perché alla fine Sto a 25 grammi Di carboidrati In un giorno Quindi niente Il 5% La rispetto Quindi È la dieta ottimale In questo momento Per spingere in palestra Allenarti Insomma E sollevare i carichi No Però Adesso ripeto L'obiettivo adesso È perdere grasso Lo sto facendo Non mi costa Tanta fatica E anzi Direi anche La domenica Sgarro sempre La domenica Sgarro sempre Due settimane fa Ci ho messo Una pizza E dessert Settimana scorsa Paella E dessert Sgarro La domenica Vado ben oltre 2500 calorie Anche 3 meno E niente Ho introdotto Anche questo Questo digiuno Intermittente Stasettimana Addirittura Ho fatto Quasi 24 ore Che sicuramente Ovviamente C'ha i suoi benefici Perché ovviamente Se non mangi Se salti i pasti Ovviamente Assumi meno calorie Quindi Il deficit È più Insomma È più facile Stare in deficit E quindi niente Finora Finora tutto bene Mi piace Mi interessa Una cosa che voglio Approfondire Ripeto Mi sento stanco Però vediamo Tra qualche Voglio resistere Perché Perché là È probabilmente La prima volta Che Che seguo una dieta Cioè che Rispetto i limiti Che mi do In termini di calorie E di macronutrienti E li rispetto davvero Per un Diciamo Per Per giorni E giorni Di seguito Solitamente Questo non succede Mi do degli obiettivi Però Poi sgarro Poi sgarro Certo Comunque Ripeto Ho perso 13 kg In 10 mesi Non è che Non è che Non faccio un cazzo Faccio Cioè L'impegno Ce lo metto Però ovviamente Avrei potuto perdere Molto di più Quindi ripeto Ovviamente Si poteva fare meglio Questa dieta Mi piace La rispetto E quindi questo È il lato positivo Sicuramente Che qualcuno È curioso Fondamentalmente Io ovviamente Poi Allenandomi La dieta Chetogenica Pura Dovrebbe essere 70% Grassi 25% Proteine 5% Carboidrati Io probabilmente Alzo un po' Di più proteine Perché adesso Sto a 160 grammi Di proteine Sto più o meno A un Sto più o meno Adesso te lo dico Più o meno In percentuale Perché ovviamente Un grammo di grassi C'ha 9 calorie Un grammo di proteine C'ha 4 Quindi il discorso Non è Adesso te lo dico subito Io sto Sì veramente Sto a 160 grammi Di proteine Sono 130 grammi Di grassi E 25 Di carboidrati In percentuale Adesso Non me lo ricordo Quanto è Non mi ricordo Da come si vede Comunque Questo sto facendo Adesso Probabilmente Sarà Un 40% Di proteine 40-45% Di proteine 50 Di grassi E 5 Di carboidrati E funziona Mi sta andando Insomma Mi funziona Molto bene Ripeto A parte il callo Della forza E niente Sicuramente Se c'è qualcuno Che sta cercando Di scendere peso Però Di perdere peso Però Ha evidentemente Problemi a rispettare La dieta Provate questa dieta Genogenica Provatela Perché effettivamente Effettivamente Funziona Con l'obiettivo Di perdere peso Vediamo Perché io so Che si può effettivamente Anche mettere massa C'è chi lo fa Con questa dieta Genogenica Ovviamente Vediamo Nei prossimi Settimane E mesi Però Per adesso Per adesso Molto bene Che sta cosa Ci teniamo a condividerla Se qualcuno Non l'avesse mai provata O Se l'ha ascoltata Quello che sia E se l'obiettivo primario È perdere peso Decisamente Ne vale la pena Se l'obiettivo primario È mettere massa Direi In questo momento Direi no Non ho le basi Per poterti rifarlo Perché non mi Almeno all'inizio È tutto il contrario Si Comunque Perdi un po' Di tonicità muscolare E soprattutto Perdi la forza Quindi Sicuramente in massa Per adesso Ti direi di no Rispetto alla mia esperienza Fino a questo momento Per perdere peso Sicuramente Sì Per perdere peso Sì Di dieta ketogenica Digiuno intermittente Di almeno 16 ore Vanno a braccetto E funzionano Funzionano benissimo Che altro possiamo aggiungere Al riguardo Sì Ovviamente Dopo il scontato Che Che tu che stai ascoltando Puoi essere interessato Sai cosa sono Ovviamente I macronutrienti E come tracciarli Se non sai come tracciarli Ti consiglio Di scaricare Quest'app Che si chiama My fitness pal Ok Scarica quest'app My fitness pal E lo so Sono due pal A registrare Tutto Tutto quello che ti mangi Però fondamentalmente Una volta Io adesso ho preso L'abitudine E lo faccio E lo so che ci sarà Chi dirà Ma le calorie Sono tutta una grande cazzata Perché tu non puoi Ogni alimento Non è vero Che ci sono quelle calorie Tu non puoi sapere Se una mela C'è di più Se c'è di meno Non puoi Non puoi sapere Tu quanto sai Ok Sì Sì Ok Lo sappiamo Tutta una grande cazzata Però Però Ti dà un punto di riferimento Soprattutto all'inizio Quando non hai esperienza È un buon punto di riferimento È preciso No Non è preciso Non è preciso Ok Ovviamente Non è preciso Però ti dà un punto di riferimento Ok Che E ti fa capire effettivamente Quanto Quante Più o meno Quante calorie Stai ingerendo I macronutrienti Capisci Inizia Inizia a contare I macronutrienti È sicuramente Un buon inizio Perché ovviamente Certo che poi Le persone più avanzate Non si mettono lì A contare le calorie Però secondo me Secondo me È un buon inizio Un buon inizio Partire Se fai sport Metti a un grammo e mezzo Due grammi di proteine Per ogni chilo Di peso corporeo Se vuoi seguire Quindi fai questo Parti da quello Fai Uno Un grammo e mezzo Due Dipende Insomma Dall'attività Fisica Fai un grammo e mezzo Due grammi Generalmente Due grammi Di proteine Per ogni Per ogni Chilo di peso corporeo Ci metti 25 grammi Di carboidrati E Il resto Tutti grassi Dove li prendi grassi? Li prendi ovviamente Dai tagli di carne Ovviamente che sono Un pochettino più grassi Li prendi Dall'avocado Fondamentale Cioè Molto usato Nella dieta Cretogenica L'olio extravergine D'oliva Le uova Complete Quindi Non solo la chiara Come da classico Palestrato Ma anche con Anche con il rosso Del uovo Dal formaggio Ok E quindi Tutti questi alimenti Che hanno grassi Ma non contengono carboidrati Le uova C'hanno un po' di carboidrati Però comunque Ci si rientra E poi per il resto Tutte le verdure Ovviamente Che non contengono carboidrati Quindi tutte le verdure Verdi Da foglia verde Quindi mangiare Insalata Con i pomodori Ci metti La feta Ottima Ci metti le olive Ti puoi mangiare I broccoli Gli spinaci I peperoni Gli asparagi Tanti tipi di verdura E Per il momento Sto Cioè Fondamentalmente Per fare la dieta Decaugenica Dovresti lasciare stare La frutta Non penso La lascerò per sempre Però per il momento Essendo l'obiettivo primario Perdere peso Ho lasciato Anche la frutta E quindi Questo è quello Che sto mangiando Se vuoi approfondire Questo discorso E hai bisogno Di qualche consiglio Qualsiasi cosa Mandami un messaggio Ancora meglio Seguimi Su Instagram Perché lì Condivido Abbastanza Tutti i giorni Sulle mie storie Poste E quant'altro Quindi Seguimi lì E Sì Se hai qualsiasi domanda Mandami un messaggio Oppure commenta Questo video Grazie E ci vediamo